Quanto è bel cliccar questo bel bottoncino Non finisce più di finire i soldini Quanto siamo? 28.000 Continuiamo a cliccar questo bel bottoncino Si 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 E ragazzi come va? Io sono Fereniki E io sono Stef e in questo video giochiamo a Roblo E oggi ragazzi giocheremo un fantastico tycoon a tema Five Nights at Freddy's Esattamente abbiamo trovato questo tycoon sembra davvero fantastico E siamo pronti ad iniziare Io inizio così guarda Oh mio dio E' carinissimo aspetta aspetta scusa Se lo puoi fare tu lo posso fare anch'io Ok vai Aspetta e divento bonnie Ciao No 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 Allora Allora non ci provare Allora Mi stai facendo arrabbiare Questa è rissa Sei morta? Si Ok Si è morta subito Ma la mappa segna le kill Questa è una mappa cattiva E' una mappa in cui bisognerà combattere Allora fammi vedere gli oggetti che ho Un pupazzetto Hai un pupazzetto? Oh ci abbraccia Ci abbraccia che carino E questo è il creeper di Minecraft E ci abbraccia pure lui Quindi è fantastico Carinissimo Allora iniziamo un pochettino con la produzione Assolutamente si Io ho avviato la parte gratis Come sempre Che però ho notato che cade per terra Wow Perché? Non lo so Cioè cadono qua per terra Ma no Dove che stare dentro E sono delle palle di carta Però se tu clicchi Crei dei teddy bear Che anche loro cadono un po' fuori Si chiamano davvero teddy bear Cadono un po' fuori Vedi Bisognerà prendere delle mura Ci sono delle mura? Giusto per sapere Allora Perché altrimenti ne perdiamo la metà qui Conveyor wall Allora sì Ok Aspetta che lo metto Vediamo se funziona Vai Dovrebbe Dovrebbe bastare Sì In effetti Ho capito adesso Sì Produciamo Dimmelo Da Produciamo il cotone per i peluche Eh certo Era ovvio Praticamente è molto a tema anche peluche Vedi come quelli che abbiamo in barra Quindi giustamente il cotone serve per Che poi non è cotone Allora continua a cliccare e non guardare Continua a cliccare e non guardare Cosa stai facendo? Guarda davanti a te Oh mamma mia Non li voglio Rosa Rosa Figuriamoci Rosa Tutto rosa Ma è che sembrano mezzo bianchi È un rosa delicato Guarda che belli Rosci Guarda che stiamo facendo un sacco di soldi Allora compro un nuovo Cotton dropper Poi compro Mi esce l'upgrader Sì mi esce l'upgrader qua Perfetto Quindi potenziamo tutto E la prossima cosa costa 500 che abbiamo già Ok Quindi nuovo cotton dropper È molto particolare come produzione Sì sto notando anch'io che è davvero particolare Io non ho visto niente C'è una persona da ammazzare Venga qua Dodd Le faccio vedere il mio pupazzo Guarda Guarda che bel pupazzo che ho Ciao Dodd Ti piace Dodd? Dodd? Guarda Io sto andando senza pudore col coltello Dodd? Ah è per quello sto scappando Tira fuori il pupazzo Dodd? Allora guarda il pupazzo Appoggia il coltello Non ti stiamo Qua nessuno ti vuole fare del male Esatto non ti stiamo facendo Come corre all'indietro mi sta uccidendo Dodd? Allora appoggi il coltello Dodd? Uccidilo Uccidilo Eh mi dispiace Mi dispiace Hai iniziato tu Ma ci stiamo picchiando tutti Stiamo facendo un disastro Infatti sono matta anche io Allora Aiuto Se ne vada Aiuto Non ci ha perdonato Per quello che è successo No 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 Infatti ci vuole vendicare Allora si calmi E' pazzo Si calmi Ricomparerà dietro i muri Con quel coltello Guarda è peggio di far venire A teatro fuori di reale Che poi vestito esatto da pupazzo E' totalmente inquietante Proprio col coltello così Pupazzo Vada via Su forza Fa paura Fa davvero paura Allora facciamo un po' di shopping Si Vieni allora Sì si si Smetto di cliccare Si Ok arrivo Guarda mi sono trasformata anch'io Anch'io sono un po' Poi c'è un po' l'inviola Allora Tappetino molto bellino Prendi questo che free Questo che free Uh Fatto e free Bello ci regalano subito qualcosa Bello 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 No ok Pensavo fosse un po' più gratis No vabbè queste sono Le mura secondo me sono basse Mi vogliono far arrabbiare Ok no Sono abbastanza alte Anche perché poi per 50 Guarda Uh Ah ecco non le vedevo Bello Oggi non vedi nulla Eh sì oggi non noto nulla Non so dove guardare Capito è strano Ho appena scoperto che cos'è couch Perché ieri stavamo guardando un video su youtube Di una serie su minecraft E tutti stavano ripartendo la parola couch Abbiamo appena comprato un couch Quindi un divano Ah un sofa Esatto Un divano Allora 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 Vediamo quanti soldi abbiamo Ho notato che si fanno tantissimi soldi cliccando Ma con la produzione automatica invece non si fa praticamente Clicca allora Clicca Clicca Uffa ma a me non piace cliccare Guarda Devi cliccare No no Stai calma Devi cliccare mi raccomando Stiamo calmi Il primo errore che fai Ho un creeper Ti tagliuzzo Ti tagliuzzo e diventi un pupazzo tagliuzzato Ma sono un pupazzo carino carino No sei malvagio Ma non è vero Tu sei malvagio Di fatto tu hai il coltello Io sto producendo dei teddy bear È perché è giusto capire chi ha il ruolo più importante qua ovvero io Ho capito Abbiamo 8000 Ma Siamo uguali Cosa hai fatto? Siamo uguali E adesso i consolini che guarderanno il video diranno Ma chi è uno e chi è l'altro Non si capirà più nulla Vabbè basta No non ci provare Non ci provare Non ci provare Allora Allora andiamo a fare una bellissima shoppata Cosa prendiamo per prima? Le finestre Uh belline Poi alziamo ancora di più i muri Ok Ancora di più i muri Ok altissima E secondo me forse sarà da due piani Non lo so Comunque guarda Anche secondo me Questa è la porta di Fiverr Night at Freddy Vedi? È uguale identica al gioco ed è fantastica Allora teniamola chiusa così non entrano i disgraziati Io voglio Io voglio Bellissimo Bellissimo Ok ce l'ho fatta prenderlo Oh che carino Ah quindi possiamo comprare già il tetto Vai 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 ce li ho ce li ho ce li ho Vediamo Ok Quindi non è da due piani suppongo Se c'è già il tetto penso che non sia Sembrerebbe di no Però guarda quanti peluche dobbiamo comprare Beh giustamente è una fabbrica di peluche Quindi siamo in vasi dei peluche Ma sono tantissimi È il mio posto preferito questo Ah sì? Peluche a non finire Guarda cosa si vorrebbe di più dalla vita Solo dei dolci Però diciamo che i peluche sono una buonissima alternativa ai dolci Un'altra delle mie cose preferite Quindi sono felicissima Sempre molto interessante sapere le cose che preferisci Sì esatto Io invece ho capito che dovrò restare qua a premere questo bottone Perché questa fabbrica non fa soldi se non si rimane a premere Quindi credo che dovrò rimanere qua a premere Per tipo 20 minutini Eh sono molto felice Mi verrà un crampo alla mano Quando mi viene chiamo un'ambulanza Ok no Ok mi raccomando No sei l'incaricata Se mi viene il crampo alla mano Io inizio a fare così E vai a chiami l'ambulanza E ti lascio a fare così per due aree Ok? Antipatica Quanto è bel cliccare questo bel bottoncino Non finisce più di finire i soldini Quanto siamo? 28.000 Continiamo a cliccare questo bel bottoncino Sì 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 Siamo rimasti qua Tipo una cosa come 20 minuti a cliccare E abbiamo fatto 76.000 Più o meno È davvero lento È davvero davvero lentissimo Con un calcolo serve circa mezzo milione Per finire tutto Quindi ho capito che questa mappa Non la finiremo Ma hanno sbagliato totalmente a farla Ho capito perché nessuno la gioca Però è molto bellino allo stesso Quindi ci proviamo a finire tutte le cose Che possiamo comprare Tipo il logo Che cosa dovrebbe essere? Per vedere Boh È questa specie di cosa Non so cosa sia Qua cosa c'è invece? I poster Ah i poster Oh questi sono bellini Sì 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 Bellini Allora aspetta che ci sono anche gli altri due 5.000 e 5.000 Carini Da fuori mi piace Mi piace molto da fuori È davvero davvero carinissimo Mi piace un sacco Allora invece dentro abbiamo ancora 51.000 Quindi possiamo comprare queste due lampade ancora Bellissime Questi pupazzetti Guarda questo Guardalo Oh mio Dio ma è Super Mario Eh sì certo è Super Mario Ciao Vabbè ci sono peluche un po' per tutti Bellissimo questo Troppo bellini I pupazzi sono davvero fantastici Sono fantastici A questo punto allora ci escono Dovrebbero uscirci le luci per il soffitto Infatti ci sono uscite Ok Allora sto cercando di selezionare quello da prendere Perché chiaramente Ho già fatto grazie No aspetta dicevo Chiaramente non riusciamo a prendere tutto di questi Sicuramente li dobbiamo selezionare Cosa stai facendo? Eh questi praticamente ti dovresti poter trasformare in loro Ok Però Secondo me non puoi se sei già trasformato in qualcosa Aspetta Ci provo Ci voglio provare anch'io Ho resetto il personaggio e torno Non ci voglio assolutamente provare Vediamo nel caso io voglio essere lui perché mi piace troppo Sì Hai ragione No È fantastico sto piccone Guarda Ok che durerà molto ed è davvero lento Però a livello di decorazioni è fantastico Quale scegli? Chi voglio essere Dai vado sul classico Freddy Ovviamente Freddy guardami Ciao Guardami Sìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì Questo Nightmare Eh anche a me Ti dicevo il nightmare Vai Che carini Sono tutti quindi peluche Ma è pure bugato Quando lo prendi Ma che schifezza Ce lo paghi 25.000 Che sono tipo 10 minuti A cliccare Ed è pure bugato È tutto nero È una cosa nera È tutto nero Vabbè 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 Almeno qui sopra È molto molto carino Vediamo il lato positivo Allora Il tycoon è esteticamente carino Hanno davvero sbagliato Con i prezzi Perché è una cosa incredibile Voglio un attimo controllare Perché qua c'è la sala La VIP Ma secondo me Riusciamo ad entrarci Così Te lo dico Come puoi Come puoi intuire questa cosa Allora vedi che dice VIP e i pupazzetti Siamo vestiti da VIP Quindi secondo me Si confondono E non entriamo Ma è ovvio Che non puoi entrare Lo devi comprare L'accesso VIP Lo devi comprare Ad entrare in tutti gli accessi Ok No non puoi Lasciami in pace Ce ne sono altri Non puoi In fondo sembra Fatta apposta per me No mi dispiace Dimmi che non è uguale a me No non è uguale a te È figo quanto me Quindi è perfetto Ma non puoi entrare Commetti che ci entro No non puoi entrare Guarda Guarda Adesso ci rimane male ragazzi Preparatevi Ci rimane male Tu quanto Ci rimane malissimo Guarda come entro Eh Allora ti sto abbandonando Non te la prendere con me Se sei arrabbiato Non te la prendere con me Ok Comunque ci fermiamo così Per questo Tycoon Purtroppo quando iniziamo Un Tycoon Non possiamo sapere Cosa ci aspetta Di solito ci aspetta Un Tycoon Magari lenti Ma impossibile No in effetti si Hanno proprio sbagliato La gestione dei soldi Cioè vi faccio vedere Anche un'altra cosa Perché è giusto Per farvi chiarire Non solo costa molto Farvi capire Capire infatti Eh scusa Corrigiamo le cose Che si sbagliano Dicevo che non solo Costa molto Ma ha pure Questo problema Slash bug Non so quello che sia Che da quando Noi ce ne siamo andati Da qua Ha fatto 1600 Perché se voi Non rimanete Fermi a cliccare Questo Tycoon Non fa praticamente soldi Esatto esatto Quindi potremmo rimanere FK anche 10 ore Che probabilmente Faremo 10.000 L'unico modo Sarebbe rimanere Circa 2 ore Per finire davvero La mappa 2 ore Qua così E ne abbiamo già fatto Mezz'ora Quindi ci fermiamo davvero No è un peccato L'avrei voluto finire Perché comunque Guarda A livello di Tycoon E di decorazioni È davvero carino Questo l'ammetto Sotto quel punto di vista È davvero fatto bene Bene che si riuscirà Così sui C'è un città Sentici un bel like E se la prima volta Che vedete il nostro video Potete considerare l'idea Di iscrivervi Per non perdervi Gli altri episodi Ciao E alla prossima Ciao ciao